Ciao a tutti ragazzi e ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Scusate se questi giorni non ho fatto molti video, ma fra la scuola e i compiti io vado anche a Dante, quindi non è facile di cavarmi molto tempo, però questo non vuol dire che non fare video, infatti oggi sono qui nel nuovo video. Oggi faremo un esperimento pazzo, con i miei occhiali da scendiato pazzo. Allora, gli ingredienti sono bicchieri, acrilici colorati, dell'aceto, un cucchiaino per girare e la parte più importante che è il bicarbonato. Allora, cominciamo a prendere i bicchieri e mettiamo una goccia di colore in ogni bicchiere. Azzurro Poi il rossa Oh, esagerato un po' con il colore E poi il viola Ok Ora che abbiamo messo il colore nei nostri bicchieri Prendiamo l'aceto Prendiamo l'aceto E mettiamo metà la bicchiere Di aceto In contatto Prendiamo l'aceto Prendiamo l'aceto Prendiamo l'aceto Prendiamo il nostro cucchiaino e giriamo per far colorare l'aceto Prendiamo l'aceto Poi giriamo il rosso, il rosso mi piace tanto, e ora il viola. Ok, ora che abbiamo girato i nostri colori, andiamo a prendere il nostro cucchiaino, però da quest'altra parte, e prendiamo il bicarbonato. Allora, prendiamo il nostro cucchiaino per spaccare il bicarbonato, e mettiamo il cucchiaino. Ma è tutto duro questo bicarbonato! Allora, aiuto, non ci tende! Facciamo... Perché non ci tende? Allora... Torno fra poco! Ok, mettiamo il nostro bicarbonato. Aiuto! Aiuto, oddio! Che bello! E' fantastico, no? Aiuto! Che bello! E' bellissimo! Aiuto! C'è un bicarbonato gigante! E' troppo bello! Oddio, quali sono i bicarbonati colori! E' schiuma! E' fantastica! Non so che dire... E' una cosa bellissima! Questo esperimento ve lo consiglio da fare in casa perché è bellissimo! Senza parole! E' bellissimo! Allora... E oggi il video finisce qui! Ciao a tutti! Iscrivetevi al mio canale e mettete un bel mi piace! Ciao! Grazie a tutti.